Musica Strage di San Basilio dopo 14 anni si chiude il cerchio sull'agguato mafioso, arrestate altre 5 persone. Scomparsa di Bruno Buffardecci, ritrovato il corpo dell'uomo, il mare lo ha restituito in contrada a cossa del carro a San Pieri. Vittoria nascondeva 784 pacchetti di sigarette contraffatte, arrestato un tunisino di 51 anni. Università Aragusa ha fatto passo avanti per l'accordo transattivo con l'Ateneo di Catania. A Ragusa la Polizia Municipale ha celebrato oggi San Sebastiano, santo protettore dei vigili urbani. Buon lunedì e buon inizio di settimana da tutta la redazione in apertura un'ampia pagina di cronaca. Nuovi arresti per la strage di San Basilio che si verificò a Vittoria il 2 gennaio del 1999. Grazie alle rivelazioni di alcuni pentiti sono state arrestate altre 5 persone, tutte di origine nissena, due delle quali già in carcere il servizio. Nuovi sviluppi nelle indagini che riguardano la strage di San Basilio a Vittoria. A distanza di 14 anni dal 2 gennaio del 1999, altre 5 persone risultano coinvolte nell'agguato che causò la morte di ben 5 persone, di cui due innocenti. Un regolamento di conti fra due clan. Morirono crivellate di colpi Angelo Mirabella, in quel momento referente del clan della stida di Vittoria, Rosario Nobile e Claudio Motta, ritenuti affiliati al clan dominante, e due giovani che in quel momento si trovavano casualmente nel ballo, Rosario Salerno e Salvatore Ottone. Questa mattina, presso la sede della DDA di Catania, sono stati resi noti i nomi di questi altri arrestati. Si tratta di Giuseppe Selvagio, 42 anni, di Mazzarino, Alfonso Scozzari, 57 anni, di Vallelunga, Claudio Calogero Cinardo, 34 anni, di Mazzarino, Orazio Buonprincipio, 44 anni, di Riesi, Salvatore Siciliano, 49 anni, di Mazzarino. Questi ultimi due hanno ricevuto l'ordinanza nei loro rispettivi carceri dove si trovano detenuti, Buonprincipio a Caltanissette e Siciliano nel penitenziario di Novara. Gli altri tre invece sono stati condotti in carcere ieri. La squadra mobile di Caltanissette, in collaborazione con la mobile di Novara e del reparto prevenzione crimine di Catania, ha eseguito le ordinanze cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Catania, su richiesta della Direzione Distrittuale Antimafia di Catania. Ad impartire l'ordine della strage, secondo il collaboratore di giustizia Carmelo Massimo Billizzi, ex boss di Cosa Nostra di Gela, sarebbe stato il clan gierese Emanuello, che mirava ad allargare la sua egemonia anche nel ragusano. E' emerso che Daniele Emanuello, all'epoca vertici di Cosa Nostra di Gela, intendeva conquistare anche la ricca provincia di Ragusa per estendere il suo predominio. Per fare ciò, Cosa Nostra doveva eliminare Angelo Mirabella, reggente della stida di Vittoria. In quel periodo il clan di Gela controllava numerose famiglie mafiose, non solo nel Nisseno ma anche nel ragusano. Un anno fa la corte d'assiste d'appello di Catania ha condannato all'ergastolo due presunti componenti del commando, Giovanni Avvento e Alessandro Emanuello. Trent'anni di reclusione invece vennero inflitti due collaboratori di giustizia, Gianluca Gammino e Carmelo Massimo Billizzi, esecutori materiali della strage. In precedenza erano stati condannati all'ergastolo i fratelli Giovanni ed Alessandro Piscopo e il cugino Alessandro Piscopo ritenuti mandanti ed Enzo Mangione, presunto basista. E' stato ritrovato il corpo di Bruno Buffardecci, il sub scomparso il giorno di Natale dopo essersi immerso nel mare di Punta Secca. E' stato un escursionista a lanciare l'allarme ieri mattina. Ha telefonato al 113 segnalando che sulla costa rocciosa tra San Pieri e Cava Daliga, incontrata a costa del carro, aveva notato qualcosa di strano, forse un uomo con una muta da sub, ma aveva detto di avere paura ad avvicinarsi a causa della zona impervia e del rischio di cadere in mare. Sul posto è allora giunta la squadra volanti e il personale del commissariato di Modica. I primi operatori intervenuti hanno ritrovato adagiato supino sulle rocce il corpo di un uomo privo di vita. Dai primi elementi raccolti gli operatori hanno subito capito si trattava di Bruno Buffardecci, il sub ragusano scomparso il giorno di Natale nelle acque di Punta Secca durante una battuta di pesca in apnea. Nel frattempo sul posto sono giunti gli operatori della polizia scientifica e il medico legale, così come il funzionario di polizia che ha seguito dal 25 dicembre le indagini sulla sparizione di Buffardecci che ha individuato alcuni elementi come le caratteristiche somatiche, la descrizione dell'attrezzatura subacquea ancora indossata ed integra. Straziante è poi il momento di riconoscimento da parte dei familiari che assistiti dagli uomini della questura sono stati accompagnati fin sulla costa rocciosa. Dopo il sopralluogo, terminate le operazioni di polizia giudiziaria, sono iniziate le fasi di recupero del corpo a cui hanno assistito i familiari e i numerosissimi amici di Buffardecci nel frattempo giunti sul posto. Le operazioni particolarmente complicate per la tipologia del terreno roccioso e fangoso hanno visto alternarsi gli uomini della polizia di Stato e dei vigili del fuoco nel tratto della costa tra il mare e la strada provinciale. Scalando tutta la costa rocciosa con un passaggio di mano in mano, seppur con grande difficoltà è stato possibile effettuare il recupero. Con molta probabilità dalle indagini effettuate, si può ritenere che il corpo del sub sia stato trascinato dalla corrente che lo ha fatto incastrare in qualche roccia sott'acqua e successivamente la stessa corrente lo ha liberato facendolo riemergere in una zona distante parecchie miglia marine dal luogo dell'immersione. Il corpo è stato restituito ai familiari che prima al cimitero e poi in questura sono sempre stati accompagnati dagli agenti di polizia. Operazione in congiunta nella lotta al contrabbando di sigarette a Vittoria nel trascorso fine settimana tra i carabinieri e i militari della tenenza della Guardia di Finanza. Sequestrato un ingente quantitativo di tabacchi lavorati esteri è arrestato un tunisino mentre un altro è stato denunciato. 784 pacchetti di sigarette di varie marche per un totale di 21,8 chili tutti privi del contrassegno dei monopoli di Stato sono stati ritrovati durante un'operazione congiunta nella lotta al contrabbando di sigarette tra i carabinieri e le fiamme gialle di Vittoria. I pacchetti erano conservati dentro due sacchi neri in plastica per la spazzatura a casa di un tunisino di 51 anni domiciliato a Vittoria Bracciante Agricolo. L'uomo è stato tratto in arresto e ammesso agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione dell'autorità giudiziaria eblea. Inoltre è stata elevata nei suoi confronti una multa di 112.488 euro pari a 5,16 euro a grammo che se pagata entro 30 giorni dalla contestazione potrà ridursi ad un decimo della citata somma complessiva. I tabacchi si pensa di provenienza dal Maghreb sono stati sottoposti a sequestro. Contestualmente a quest'operazione i militari della tenenza della Guardia di Finanza di Vittoria hanno fermato una Fiat Punto in Contrada Macconi alla cui guida c'era un tunisino che a seguito di un controllo più approfondito è stato trovato in possesso di 107 pacchetti di sigarette marca American Legend di provenienza maghrebina per un peso complessivo di 1,740 kg nascosti nel portabagagli. L'uomo è stato denunciato e sanzionato con una multa di quasi 9.000 euro. Durante il controllo i militari hanno anche accertato che l'auto aveva un contrassegno assicurativo contraffatto motivo per il quale l'uomo è stato denunciato per il reato di falso e scrittura privata e la Fiat Punto sottoposta a sequestro. I carabinieri di Ragusa indagano sull'attentato a colpi di fucile contro uno studio fotografico della riviera ragusana nei pressi di Randello. Colpi di fucile contro uno studio fotografico i carabinieri della liquida operativa sono intervenuti con l'ausilio della squadra indagini scientifiche del nucleo investigativo provinciale presso uno studio fotografico della riviera ragusana sul quale nella notte sono stati esplosi diversi spari. Un passante si è casualmente accorto dei buchi sulla vetrina e sulla porta di un negozio di fotografia e subito ha chiamato i carabinieri della stazione di Santa Croce Camerina. I militari giunti sul posto hanno chiamato la squadra rilevi del nucleo investigativa e la liquida operativa della compagnia. I rilevi tecnico-scientifici hanno permesso di riscontrare la presenza di 12 buchi causati da munizioni di fucile da caccia. Sono stati repertati molti proiettili e altre tracce al momento al baglio della sezione investigazioni scientifiche. Il fondo commerciale al momento sfitto e svuotato di mobilio ha subito danni alle saraginesche e alle vetrate nonché ai muri esterni. I militari hanno cercato di rintracciare il proprietario ma è all'estero. In attesa del suo rientro è stata forzata la porta per eseguire i rilevi all'interno. Le indagini avviate e condotte a caldo dai militari della compagnia di Ragusa hanno portato nella notte ad eseguire alcune perquisizioni. Sono al baglio alcune ipotesi che saranno riferite al procuratore della Repubblica di Ragusa. Lotta allo spaccio di droga da parte dei carabinieri di Vittoria. Sabato sera un sedicenne tunisino è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È stato trovato con addosso 10 grammi di ascisce confezionati in 5 stecche di carta stagnole con un coltellino con lama intrisa della stessa sostanza. I carabinieri di Vittoria hanno arrestato sabato sera un sedicenne tunisino domiciliato a Vittoria con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. In particolare nel corso di un mirato servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti i militari dell'arma di pattuglia in via Vincenzo Bellini nei pressi della villetta comunale hanno intercettato il giovane che a seguito di controlle successiva perquisizione personale è stato trovato in possesso della droga. Il minorenne è stato così accompagnato in caserme al termine delle formalità di rito è stato accompagnato al centro di prima accoglienza di Catania a disposizione dell'autorità giudiziaria per minorenni davanti la quale dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E sempre i carabinieri di Vittoria hanno arrestato un sorvegliato speciale trovato alla guida di un'auto senza patente. Guida senza patente è arrestato un sorvegliato speciale nel corso di uno specifico servizio disposto appositamente per controllare a tappeto tutti i pregiudicati soggetti a misure restrittive nell'ambito del comune di Vittoria i carabinieri hanno tratto in arresto Salvatore Giudice 38 anni pluri pregiudicato per reati associativi contro la persona e contro il patrimonio in atto sottoposto alla sorveglianza speciale. L'uomo è stato sorpreso alla guida della sua auto sprovvisto di patente di guida in quanto revocata dalla prefettura di Ragusa nel 1996 a seguito della sua condotta è stato immediatamente tratto in arresto e condotto in caserma e al termine delle formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria eblea e successivamente rimesse in libertà dalla procura di Ragusa che chiederà adesso la convalida piede libero dell'arresto. Nel corso del servizio sono stati deferiti in stato di libertà altri due pregiudicati vittoriesi entrambi in atto sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno perché sorpresi a bordo di un ciclomotore in violazione quindi di quanto previsto dal provvedimento preventivo. Ci fermiamo per la pubblicità restate con noi.